Suntamaresca, pupetta, vedova del boss Pasquale Simonetti, ne uccise il mandante dell'omicidio. Tempi della camorra Precutolo, in carcere nel 55, partorì il primo figlio, fu graziata dopo dieci anni in prigione. Interpretò se stessa al cinema, ebbe altri due figli da un altro camorrista, mai pentita. Mafia al femminile, anche nell'andrangheta, Aurora Spanò, tra velleità letterarie ed estorsioni professionali, era lei a comandare il clan Bellocco, nella piana di Gioia Tauro, fino al carcere.